se ha riunito i nomi più prestigiosi d'europa per darti un'auto straordinaria un'auto che ti dà tutto quello che hai sempre considerato extra nuova seat ibiza extra a tua prossima c'è sempre una rivincita con la gazzetta dello sport rivincita è il nuovo gioco che fa giocare ogni giorno la tua schedina totip controlla il tuo numero di convalida sulla gazzetta che lo sport ogni giorno ci sono milioni in palio dai prenditi la rivincita il gioco della gazzetta dello sport che premia la tua schedina totip con lo sport che fai i capelli devi lavarli spesso altro che e quindi il tuo shampoo è neutro più che neutro neutro roberts senza alcali neutro roberts è lo shampoo che rispetta la naturale bellezza dei tuoi capelli perché è neutro più che neutro neutro roberts shampoo neutro roberts sicurezza da sempre nei momenti più intensi mars ti dà di più il gusto l'aiuto il piacere che vuoi mars ti dà grazie a tutti grazie a tutti